E' arrivato tutto il giusno del rigore in campionato, ma la Juve Sabia non va oltre il Parigi. Che cosa è mancato secondo te in questa partita? Diciamo che c'è stata un po' di sfortuna perché l'arbitro, come ho detto prima, ha fatto affischare i tre rigori nitidi e non l'ha fatto. Abbiamo preso un gol un po' ingenuo, doveva un errore nostro e poi abbiamo creato abbastanza e non siamo riusciti a fare il gol. Questo è un po' di tutte le partite che ci succede. Cerchiamo da domenica di vincere perché è importante, senza guardare altre partite non dobbiamo fare con più punti così i play-off. L'occasione di quel parlamento che hai fatto, ci puoi spiegare una posizione in fuorigioco, sono te oppure eri attivo? No, ero buono, solamente pensavo che il portiere mi uscisse forte, quindi volevo toccare appena, appena, non ho completato la posizione. Iniziamo alle Metropolisse. Stiamo intendo di perdere i play-off a questo punto? Ma io non temo di perdere i play-off perché siamo una squadra forte, si è vista anche oggi che domniamo le partite, però dobbiamo cercare di vincere perché se no ci arriviamo. E che cosa sta succedendo a questo giro? Il giro di ritorno non sta lento per rendere l'interno della finalità. Diciamo che un piccolo calo in una giornata c'è sempre, magari adesso stiamo attraversando quello, piccato c'è anche un po' di sfortunato, come abbiamo detto, i gol che prendiamo e quelli che già non ci entrano, quindi andiamo avanti. Un'ultima domanda? Ti sei sentito un baguettino isolato in ultimi 20 minuti? Magari ti aspettavi come? Sono scelto il Ministro. Grazie. 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 Grazie.